Ciao a tutti amici di androidblog.it, test di registrazione video in 4k con oneplus 2 videocamera da 13 megapixel, proviamo subito un cambiamento di messa a fuoco in modo automatica proviamo anche quella manuale che è sicuramente più precisa facciamo anche un rapidissimo pan per vedere la stabilizzazione del video è un controluce in questo pomeriggio che sta per annuvolarsi anzi un temporale pazzesco in arrivo proviamo anche lo zoom digitale di cui non sappiamo effettivamente fino a quanto è supportato ma vedete la definizione dell'immagine e vi ricordo video in 4k con oneplus 2